Ben trovati all'edizione della notte del TG6 che si apre con la politica, in particolare con la visita a Pescara del ministro degli esteri Angelino Alfano che ha presentato Alternativa Popolare, il suo nuovo partito, esponendone anche gli obiettivi e annunciando che è pronto il tesseramento sul territorio regionale. Sentiamo Francesca Romana Testi. Un'alternativa alla destra, divenuta ormai troppo populista e demagogica, e alla sinistra che vuole creare scontri tra imprese e lavoratori. Un credo verso l'Europa che non può essere abbandonata come professato dal leader della Lega, causa perdita del potere d'acquisto per la svalutazione della moneta, e alleanza con gli Stati Uniti di Trump, grande motore economico per l'Italia. Angelino Alfano oggi a Pescara celebra la nascita di Alternativa Popolare che avvia la sua campagna di tesseramenti per radicarsi sul territorio. Noi siamo qui per dire che puntiamo molto sull'Abruzzo e che come primo gesto di Alternativa Popolare sull'Abruzzo c'è stato quello dei nostri parlamentari in commissione e anche al governo per dire zona franco-urbana piena capienza degli stanziamenti per la ricostruzione in Abruzzo. Un euro in più di quel che serve sì, un euro in meno di quel che serve no. Noi siamo per l'Europa, noi siamo per la Nato, noi siamo per l'alleanza con gli Stati Uniti d'America come elemento fondamentale della nostra politica estera e siamo perché la Russia non venga isolata. Un programma di politica estera che è solido ed è ancorato alla tradizione italiana, un programma di politica economica che mette al centro esattamente i bisogni degli imprenditori perché sono gli unici che possono fare le assunzioni. Su questa nostra base programmatica noi costruiremo il nostro futuro e noi ci consideriamo una forza autonoma, popolare, indipendente perché noi non abbiamo bisogno di alleanze per vivere e non abbiamo bisogno di alleanze per lanciare i nostri programmi. Chi non è di sinistra, non ama gli estremisti, non vuole allearsi con chi vuole portarci fuori dall'Europa e dall'euro e al tempo stesso vuole un programma chiaro su famiglia, impresa, casa, ceto medio e grande questione della povertà sappia di avere trovato l'alternativa. E sempre Angelina Alfano è intervenuto anche ad una manifestazione organizzata alla Marina di Pescara che riguarda l'internazionalizzazione e l'export per le imprese, un tema molto sentito dalle aziende che impatta in maniera notevole sulla economia regionale e nazionale. Sentiamo. Un messaggio diretto alle imprese è quello di cercare nuovi mercati all'estero ma di contare sul sostegno del governo. Ci saranno degli strumenti e soprattutto uno studio di settore per cercare di guidarle. Per l'Italia l'esportazione rappresenta un fattore fondamentale, non solo è stato un grande fattore di crescita ma soprattutto un fondamentale fattore per permettere alle piccole e medie imprese di sopravvivere e di svilupparsi. Venendo in Abruzzo in specifico abbiamo avuto un'attività di esportazione particolarmente forte. l'Abruzzo è cresciuta del 10% quindi molto di più della crescita nazionale e questo devo dire grazie alla grande bravura degli imprenditori abruzzesi ma anche a una serie di attività a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese di Abruzzo che il governo come sistema, quindi ministeri, ICE, SAC e SIMES metta a disposizione soprattutto delle piccole e medie imprese che sono quelle che in un certo senso hanno più difficoltà ad affrontare la complessità dei mercati internazionali. Questa è un'occasione importante perché i partner coinvolti all'interno di questa iniziativa sono partner di grande esperienza che possono accompagnare le nostre imprese e migliorare i rapporti che le imprese possono creare all'estero e noi riteniamo che le imprese, data anche la massiccia iscrizione di imprese a partecipare ai tavoli possano cogliere a pieno questa opportunità. Ed ora cambiamo pagina, si è svolta all'ospedale di Chieti l'autopsia, la seconda sul corpo di Letizia Primiterra la donna uccisa dal marito Francesco Marfisi giovedì scorso a Dortona la seconda perché ieri si è svolta l'altra autopsia sempre condotta dall'anatomo patologo Pietro Falco sul corpo di Laura Pezzella. Il medico legale ha riscontrato 50 coltellate che sono state fatali alla donna per questo duplice omicidio. Sentiamo il servizio. È stata colpita da una ventina di coltellate tutte concentrate nella zona toracica la metà delle quali a livello cardiaco Letizia Primiterra, la 47enne che lo scorso 13 aprile è stata uccisa a Dortona dal marito 50enne Francesco Marfisi che subito dopo ha colpito a morte con 50 coltellate anche l'amica della donna Laura Pezzella di 33 anni lo ha stabilito l'autopsia effettuata a Chieti dall'anatomo patologo Pietro Falco l'esame iniziato alle 7 del mattino si è concluso alle 14 le coltellate hanno provocato lacerazioni a livello cardiaco e polmonare la donna aggredita nell'androne di un palazzo dove era ospite a casa di un'amica ha tentato anche di difendersi dalla furia omicida del marito l'autopsia ha infatti riscontrato lesioni da difesa ad una mano i risultati definitivi si conosceranno almeno fra 60 giorni nel corso dell'autopsia sono stati effettuati anche prelievi di liquidi e materiale biologico per l'esame del DNA alla base del duplice omicidio ci sarebbe la scoperta da parte del marito di una relazione fra Letizia e Laura mai confermata dalle famiglie Francesco Marfisi è rinchiuso nel carcere di Lanciano in isolamento deve rispondere di duplice omicidio con gli aggravanti di premeditazione, crudeltà, porto abusivo di armi violazione di domicilio e commissione di reato in presenza di minori A oltre 8 anni dal terremoto le inchieste giudiziarie fanno emergere ancora casi di cosiddetti furbetti del terremoto cittadini che cioè hanno soffruito di contributi per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate senza averne diritto i finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito una serie di sequestri di disponibilità finanziarie e di beni immobili per un valore complessivo di circa 420 mila euro emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di 5 persone finite sotto inchiesta con l'accusa di aver indebitamente conseguito contributi per la ristrutturazione e la riparazione di immobili le indagini avrebbero consentito di documentare come i 5 indagati attraverso false autocertificazioni avrebbero percepito contributi non dovuti per l'importo appunto di 420 mila euro perché utilizzati per la riparazione e ricostruzione di immobili destinati ad usi diversi dalla abitazione principale ed ora passiamo ad un'altra notizia che invece riguarda la sanità non approverò l'atto aziendale redatto sulla scorta delle nuove linee guida approvate dalla regione Abruzzo sono pronte ad impugnarlo nelle sedi deputate così il sindaco di Chieti Umberto Di Primio all'esito della riunione del comitato ristretto dei sindaci della ASL numero 2 di cui è presidente il sindaco di Chieti non firma l'atto aziendale della ASL e si dice pronto a impugnarlo Umberto Di Primio presidente del comitato ristretto dei sindaci dell'azienda sanitaria locale ha assunto la decisione durante la riunione del comitato con i primi cittadini di Lanciano, Vasto e Casoli quest'atto dichiara penalizza solo l'ASL provinciale di Chieti l'unica ad adeguarsi al decreto del ministro Lorenzin con taglia personale e risorse nel merino di Di Primio anche due nuove figure introdotte dal provvedimento Assolutamente no ad un atto aziendale che penalizza le professionalità della nostra ASL che penalizza soprattutto il territorio dell'ASL di Chieti quindi il territorio di Chieti ma anche quello di Lanciano, di Vasto e di tutta la nostra provincia un no perché è un atto aziendale che così come è fatto cioè seguendo le linee guida dettate dalla regione che comunque adotta un atto in evidente violazione di legge introduce nuove figure come quelle del direttore delle funzioni territoriali e quelle delle funzioni ospedaliere che sono qualcosa in più che non serve, che aumenta i costi e soprattutto che apre le porte ad un nomine che non rispetterebbero a nostro avviso quella meritocrazia che invece è fondamentale soprattutto quando si parla di sanità un atto aziendale soprattutto che non prende in considerazione la necessaria e forte volontà che ognuno di noi deve esprimere di dire no all'applicazione così come prevista oggi del decreto Lorenzin non è possibile che il decreto Lorenzin venga applicato alla sola ASL di Chieti così introducendo una diminuzione di prestazioni, una diminuzione di fondi un taglio al personale dobbiamo assolutamente fare in modo che non sia la sola ASL di Chieti a pagare quello che oggi viene fuori dal decreto terremoto in considerazione delle perplessità sollevate anche dagli altri colleghi del comitato ha concluso il sindaco di Chieti di primo ho chiesto all'assessore Paolucci di intervenire alla prossima riunione per chiarire le questioni di diritto sollevate rispetto alla legittimità dell'atto aziendale e per riferire anche sull'esito della commissione tecnica istituita per lo studio del DEA di secondo livello funzionale Chieti Pescara a tre mesi dalla tragedia della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola causando la morte di 29 persone ieri a Pescara si è celebrato un flash mob organizzato dal comitato vittime di Rigopiano vediamo il servizio di Vestina News un flash mob per ricordare e dare giustizia alle 29 vittime dell'hotel Rigopiano quello organizzato dal comitato vittime di Rigopiano è svoltosi a Pescara a tre mesi dalla tragedia per non dimenticare le vittime per non dimenticare che ci siamo per non dimenticare quello che è successo e per non dimenticare che la neve non c'entra nulla la valanga non c'entra nulla è solo la mano dell'uomo e questa mano dell'uomo va presa e va punita aspettiamo fiduciosi stiamo sempre aspettando a tre mesi è rimasto tutto invariato aspettiamo sperando che appunto che la loro visione sia come la nostra lo sappiamo abbiamo fatto un'ipotesi speriamo che coincida noi andiamo avanti con la forza di volontà che non ci deve mancare siamo uniti, compatti, pronti alla verità siamo pronti qualunque questa sia però la verità il corteo partito da Piazza della Repubblica si è poi radunato in Piazza della Rinascita dove alle 16.48 ora ipotetica della valanga i partecipanti hanno formato un grande cerchio accogliendo l'esibizione dei bambini che al suono della canzone il cerchio della vita di Vana Spagna hanno scritto sulla pavimentazione del piazzale i nomi di chi non è riuscito a scappare da quel disastro e liberato in cielo 29 colombe bianche si è ancora tanto il dolore le due parole che emergono anche in questa giornata sono dolore e giustizia e chiaramente il nostro ricordo va a tutti loro a tutti quegli angeli che sono in cielo ai familiari che continuano a soffrire come tutta una comunità che è quella pescarese, farindolesa, abruzzese in generale che è ancora scossa da questa immane tragedia qui a Pescara simbolicamente per la sede di giustizia che c'è dove è la sede della procura quindi attendiamo con ansia le evoluzioni da parte delle indagini assolutamente commovente la manifestazione più genuina che viene dai bambini a ricordare degli angeli immacolati così come sono i bambini si avvia a conclusione la procedura che porterà alla valorizzazione del complesso immobiliare Exfea sito in Pescara sul lungomare Matteotti entro la fine del mese di aprile saranno infatti convocati i soggetti che hanno risposto all'avviso di indagine esplorativa finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse l'avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale il 14 settembre del 2016 il punto sull'iter è stato oggetto di un incontro convocato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso alla presenza del sindaco del comune di Pescara Marco Alessandrini D'Alfonso ha ricordato l'urgenza di recuperare un'area che oggi rappresenta un pericolo per la città gli obiettivi di Regione Abruzzo sono definiti a valorizzare le immobile in termini di potenziamento culturale sociale e turistico a beneficio della città di Pescara entro aprile dunque si conoscerà la proposta di valorizzazione a Pescara intanto è tornato fruibile da questa mattina lo svincolo nei pressi del Ponte Nuovo e delle torri Camuzzi che consente l'accesso e l'uscita dall'asse attrezzato vediamo da oggi tornano fruibili ingresso e uscita all'asse attrezzato qui alle torri Camuzzi in attesa dell'apertura del Ponte Nuovo si intanto un piccolo grande sollievo per la città di Pescara le rampe di accesso e di uscita dall'asse attrezzato lati torri Camuzzi verranno riaperte tra qualche minuto tra qualche istante insomma un beneficio per l'intera città anche perché sappiamo da studi condotti dal comune che sono rampe particolarmente utilizzate parliamo di 10.000 macchine 10.400 macchine dalle 7.30 alle 19.30 per quanto riguarda la rampa di accesso insomma con un picco di 900 e passamacchine tra le 18.30 e le 19.30 questo ci aiuta a capire quanto aiuterà a diffondere a fluidificare quindi il traffico sulla città la riapertura della rampa di accesso e di uscita dell'asse attrezzato e poi aspettiamo il ponte ponte che anche qui destinato a cambiare la viabilità di Pescara perché diciamo eviterà un ingorgo pesante nella zona di San Cetteo assolutamente sì non solo nella zona di San Cetteo ma anche nella zona di Piazza Italia dove è situata la sede istituzionale del comune di Pescara la viabilità naturalmente cambierà adesso stiamo valutando se cambiarla congiuntamente alla riapertura del ponte o soltanto dopo un piccolo periodo di assestamento quindi non sarà soltanto il ponte ma cambieranno anche i flussi viari nella parte di via Ferrari via del circuito insomma lo stiamo studiando stiamo vedendo anche il periodo in cui attuarlo fermo restando che insomma aspettiamo scaramanticamente dalla data del 28 e 29 di aprile che è la data in cui verrà effettuato il collaudo statico l'ingegner Rossi qui a fianco a me mi dice di pazientare di aspettare questa data fatidica il nostro ponte il ponte nuovo sarà diciamo provato messo a prova da 11 camion di 43 tonnellate ciascuno e verranno prima accoppiate su una corsia e poi sull'altra ci sarà un sensore che valuterà che il ponte non si abbassi più di 10 cm quindi fino a quella data fino al deposito del verbale al genio civile noi non daremo date di riapertura del ponte poi subito dopo valuteremo con il sindaco le maestranze del gruppo Carraro di Padova hanno consegnato 6.000 euro per la ricostruzione di Montorio alla campagna solidale hanno aderito i lavoratori della Carraro che hanno donato un'ora del proprio lavoro il servizio di Tania Bondici Castelli i lavoratori del gruppo Carraro di Padova hanno promosso una raccolta fondi per contribuire alla ricostruzione del comune di Montorio al Vomano donando un'ora del proprio lavoro hanno così potuto consegnare al sindaco Gianni Di Centa un assegno di 6.000 euro siamo grati alla Carraro e soprattutto a tutte le maestranze e gli operai che hanno fatto questa scelta e vedremo di mettere a frutto nel minor modo possibile e se abbiamo fatto un elenco di opere insieme decideremo dove collocare queste risorse una bella solidarietà quella dimostrata dalle maestranze del gruppo Carraro una somma che sarà utilizzata dal comune di Montorio per interventi di sistemazione del patrimonio urbano danneggiato dagli eventi sismici la nostra azienda da anni ormai è abituata a fare raccolte di questo genere quando succedono fatti così tragici di altre persone che vivono nel nostro nel nostro paese abbiamo cercato di individuare un comune che non fosse al centro dell'attenzione mediatica e abbiamo scelto questo piccolo comune di Montorio perché ci sembrava appunto un comune più piccolo e dove il nostro contributo sarebbe stato molto più significativo quello che mi sento di dire è che questa è una piccola goccia nell'oceano però la vicinanza che abbiamo sempre portato anche in occasione del terremoto nell'Umbria in occasione del terremoto in Emilia ha fattosi sempre che per queste comunità sia uno slancio per ricostruire e dopo aver consegnato i 6.000 euro al sindaco di Centa i rappresentanti sindacali terramani alcuni lavoratori del gruppo Carraro e gli amministratori del comune di Montorio hanno visitato la zona rossa del paese restiamo sempre a Teramo il conservatorio Braga ha presentato un originale stagione musicale dal titolo Braga per il sociale si tratta di una serie di concerti che saranno tenuti all'ospedale Mazzini al carcere di Castronio luoghi dove vivono i meno fortunati il conservatorio Braga di Teramo compie 122 anni un'istituzione prestigiosa e storica in Abruzzo recentemente statizzata con 250 allievi ed un corpo docente tra i migliori in Italia traguardi importanti che il Braga vuole festeggiare con una stagione musicale che apre al sociale portando la musica direttamente a chi è meno fortunato ai malati dell'ospedale Mazzini e ai detenuti del carcere di Castronio era uno dei nostri obiettivi due anni e mezzo fa quando ho cominciato il mio mandato sembrava un sogno e invece è diventata realtà quindi in due anni e mezzo il Braga ha fatto davvero passi da gigante e la statizzazione ci ha cambiato proprio la vita in maniera positiva certamente quindi possiamo da quest'anno già in parte abbiamo fatto lo scorso anno investire con nostre risorse con nostre forze sul territorio saranno due progetti distinti Braga per il sociale che prevede dieci concerti presso l'ospedale partiremo il 21 con la nostra orchestra sinfonica diretta dal nostro direttore fino a fine dicembre saranno dieci concerti due con orchestra quattro in pediatria e quattro in altri reparti e poi il carcere il Braga statizzato riprende il suo cammino finalmente nel senso che il mio insediamento è avvenuto circa un anno e mezzo fa devo dire che adesso finalmente possiamo svolgere la nostra funzione istituzionale la nostra funzione istituzionale che è quella di fare musica cioè di organizzare per la città per la nostra comunità per la provincia dei progetti musicali seri dei progetti musicali che vanno a colpire il sociale e soprattutto per i nostri allievi per i nostri docenti di dare quel prestigio che il nostro conservatorio dovrebbe mantenere nella nostra città e da questo momento iniziamo una programmazione guardiamo sicuramente al futuro e il futuro lo vedo veramente radioso tra le novità del palinsesto musicale del conservatorio Braga spiccano appuntamenti di musica jazz imperdibili ed ora siamo alla pagina dello sport con il calcio di serie A in primo piano si è aperta oggi a mezzogiorno la prevendita dei biglietti per la partita tra Pescara e Roma in programma lunedì sera allo stadio Adriatico Cornacchia se per i biancazzurri è sempre più vicino il verdetto della retrocessione in casa Roma la tensione c'è per l'avvicinamento del Napoli al secondo posto e anche per l'imminente addio del tecnico Spalletti non sarà una gara come le altre per il tecnico del Delfino Zeman che è l'ex di turno essendo stato allenatore per due volte della Roma sentiamo il servizio di Andrea Costantini si avvicina per il Pescara il verdetto della retrocessione diretta sentenza che potrebbe essere pronunciata in caso di blitz comunque molto difficile dell'Empoli a San Siro domenica pomeriggio contro il Milan e sconfitta del Delfino lunedì sera nel posticipo con la Roma partita per la quale proprio oggi a mezzogiorno si è aperta la prevendita già da ieri attiva la vendita dei tagliandi per gli abbonati di Curva Sud che usufruiscono di prelazione visto che l'intero loro settore è stato destinato ai tifosi della Roma come da disposizioni dell'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive una partita che resta importante per la squadra di Spalletti che dopo il pari interno con l'Atalanta ha visto assottigliarsi di molto le speranze di rimonta sulla Juventus ma che anzi ora deve guardarsi dall'assalto al secondo posto del Napoli che per almeno qualche ora potrebbe scavalcare la Roma in caso di vittoria domenica col Sassuolo anche per questo che a Trigoria c'è tensione ulteriormente alimentata dai continui input lanciati da Spalletti circa il suo addio a fine stagione l'allenatore toscano ieri alla ripresa degli allenamenti ha comunicato il programma settimanale nel quale si apprende di un altro giorno di riposo dato alla squadra per venerdì in vista poi delle ultime due sedute di sabato e domenica prima del match dell'Adriatico da verificare le condizioni di Rudiger Fazio ed Emerson che sembrano però recuperabili soprattutto i due centrali per il Pescara l'unica motivazione di classifica è evitare l'ultimo posto ma per questo saranno funzionali le partite interne con Crotone e Palermo sarà comunque la partita di Zdenek Zeman che incrocerà la squadra per la quale scelse di lasciare il Delfino dopo la promozione in A nel 2012 il Boemo firmò un biennale con i giallorossi salvo essere esonerato dopo 23 giornate è stata la seconda esperienza per Zeman su quella panchina la prima si consumò nel biennio 97-99 con un quarto e quinto posto rispettivamente un rapporto complesso quello tra Zeman e la Roma il Boemo che dalla parte opposta ritroverà uno dei suoi vecchi pupilli Francesco Totti cresciuto in maniera esponenziale sotto la sua prima gestione sarà una gara speciale anche per tanti biancazzurri che hanno indossato la maglia della Roma e lì sono cresciuti da Caprari a Verre da Crescenzi a Bovo fino a quel Simone Pepe che oramai ha appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere il ruolo di club manager sempre con Andrea Costantini scendiamo in Lega Pro perché si è aperta nel pomeriggio la prevendita dei biglietti per la partita maceratese Teramo in programma domenica alle 16.30 allo stadio Elvia Recina la vendita è possibile nel circuito booking show e sarà disponibile fino alle 19 di sabato 22 aprile per i soli possessori di supporter card consentita anche l'iniziativa porta un amico il costo del biglietto è fissato in 12 euro 7 euro invece per i ridotti il centrocampista del Teramo Di Paolo Antonio non nasconde la delusione per il magro bottino raccolto dalla squadra nelle ultime due gare interne ma continua a sperare nella salvezza diretta ma sicuramente avevamo due partite in casa e quindi dovevamo sfruttarle meglio sicuramente perché vedi le altre hanno giocato fuori casa hanno avuto sconti diretti comunque avevamo due partite non facili perché comunque nessuna partita è facile però era la nostra portata e sicuramente in casa qualche punto in più avremmo dovuto farlo quindi siamo un po' rammaricati lo sappiamo anche noi però noi ci crediamo anche perché siamo lì a due punti dal Manto alla salvezza diretta abbiamo sicuramente guardiamo prima in casa nostra però diamo un occhio anche alle partite del Manto che comunque ha degli scontri diretti però prima dovevamo pensare più a noi perché comunque eravamo arrivati lì e stavamo quasi fuori adesso magari dobbiamo pensare anche se c'è uno scivolone di qualche altra squadra perché anche questo guarderemo però come ripeto adesso abbiamo tre partite dobbiamo a mio avviso cercare di fare bottino pieno abbiamo vinto un campionato altri campionati divertici adesso mi sto misurando con quest'altra realtà sicuramente se dovesse andare via mi piacerebbe farlo nel migliore dei modi e lasciare il Teramo nelle categorie che conta andare via magari oppure rimanere in Serie D comunque fa male a me farebbe male a tutta la città quindi io spero con tutto il mio cuore essendo Teramano di mantenere la categoria perché per me e per la gente io comunque la vivo in un altro modo non so magari sicuramente anche gli altri vogliono salvarsi però io da Teramano proprio la vivo in un altro modo e spero di spero di riuscirci magari quello due anni fa era il gol della vittoria in B ma firmerei anzi forse è anche più importante fare il gol della servezza che magari il gol della vittoria del campionato speriamo anche se se non lo faccio io pure Antonio Narciso magari però speriamo di ecco di fare una grande partita a macerata perché è quella che magari ci darà la spinta per salvarci prima di chiudere una notizia che riguarda la diffusione dei messaggi autogestiti gratuiti MAG per i due referendum popolari TV6 intende infatti diffondere i MAG e i referendum hanno ad oggetto l'abrogazione di una parte dell'articolo 29,2 del decreto legge del 276 del 2003 per l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro e l'abrogazione degli articoli 48,49 e 50 del decreto legislativo 81 del 2015 per la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni i due referendum sono indetti per il giorno 28 maggio 2017 nella propria sede di Silvi TV6 mette a disposizione un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi il numero massimo dei contenitori predisposti la collocazione del palinsesto gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto la sede di TV6 è in via strada statale nord 26 e la persona da contattare è Quintino Pallante si chiude qui la terza edizione del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le edizioni delle TG6 delle 14 delle 19 e delle 23 vi auguro una buonanotte a Grazie a tutti.